Promossa a pieni voti con la media del 9, Samantha Renon, 16 anni, il prossimo anno avrebbe frequentato la quarta classe all'Istituto Tecnico San Sovino di Oderzo, ma su quel banco lasciato vuoto lo scorso 14 aprile non ci sarà. A strapparla l'affetto dei suoi genitori, del fidanzatino e degli amici, un tragico incidente stradale. Bravissima scuola, studiosa e sempre sorridente, Samantha era una studentessa a modello e gli insegnanti hanno voluto ricordarla così. Alla scuola lei teneva molto e i suoi voti lo dimostravano, oggi questo piccolo grande riconoscimento. La sedicenne ha lasciato nei compagni e negli insegnanti un vuoto incolmabile, tanto che hanno piantato nel giardino della scuola un albero in suo ricordo. L'immagine che nessuno vuole dimenticare è l'arrivo della sedicenne la mattina in classe con il sorriso e il casco sotto braccio. Samantha il 14 aprile nel pomeriggio stava andando a trovare il fidanzatino in sela la sua moto, la sua passione. Ad un tratto ad Arzeri di Salgareda è stata travolta da un'auto che ha svoltato senza rispettare la precedenza. Sotto sciocche la comunità di Cessalto dove viveva così come la scuola e quanti l'amavano. Il prossimo settembre avrebbe frequentato il quarto anno del corso in relazioni internazionali per il marketing. Ma il suo sorriso, i suoi sogni si sono spezzati lungo questa strada. Grazie a tutti.